Le Marche, coni, abbandonati lì, noi li renderemo vivi creando delle strutture che consentano di poterle fare vivere a tutte le cittadine, creando ristorante, attività sportive là dentro, parco giochi, bar, pub. Ed anche, ho assunto l'impegno con i valorosi e geniali ragazzi di Meme Sud, farò fare lì anche un pub. Stiamo, tranquilli!